Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi e con il tuo Spirito. Nel momento di fare l'unzione, il Vescovo dice questa parola, riceve lo Spirito Santo che ti è stato dato in dono, è il grande dono di Dio, lo Spirito Santo. E tutti noi abbiamo lo Spirito dentro, lo Spirito è nel nostro cuore, nella nostra anima. E lo Spirito ci guida nella vita perché noi diventiamo sale giusta e luce giusta agli uomini.